ciao ragazzi abbiamo fatto un altro po di spesa oggi andiamo a aprire e troviamo un estrattore che serve per il volano della vespa paraoli nuovi che si apre il motore si amme anche paraoli cosa ci abbiamo allora uno abbiamo un kit guarnizioni motore coperchio frizione eccetera eccetera marmita e carburatore un albero mazzucchelli perché poi 102 ma assolutamente cambiato l'albero ora insieme loro danno la sua gabbiettina però raga vediamo una cosa la gabbia conviene comprarla della polini e la danno apposta per i 102 ora si apre vi faccio vedere la differenza queste della polini e queste della mazzucchelli guardate e d'acciaio rinforzato e si mette qui ok questa era la roba ora vediamo un attimino cosa poi c'è rimasto questi sono i gommini per la battuta della messa in moto che al momento si apre carter questi si incastrano all'interno e si mette a nuovi poi dice sai che visto tu fai ciao e ti do un altro sacchettino di adesivi difatti si può notare c'è scritto confezione media materiale pubblicitario vabbè c'è questi qui c'è questi grandi bianchi e rossi ci stanno bene ma mettiamolo insieme a quegli altri questo è tutto sono andato a comprare questi pezzi qui per la vespa perché sabato si apre il motore e si mette questo bel alberino anzi vi dirò di più raga più che l'alberino si metterà anche i rapporti a 4 marce perché quella ne ha 3 va bene raga un saluto ciao sempre alla grande mettete like e commentate pure